Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su The Guardians, io sono Shanks e questo è il consueto appuntamento settimanale con Xur, che vi ricordo è disponibile alla Torre nella Sala dell'Avanguardia dal venerdì alle 10, alla domenica alle 10. Questa settimana è una settimana carina, incentrata parecchio sul PDE, secondo me, e andiamo subito a scoprire il perché. Cominciamo subito dalle robe inutili come le particelle di luce che sono presenti ogni settimana insieme ai propulsori al plasma, del vuoto, le solite sintesi pesanti, i 3 di ori e gli aghi di vetro. Questa settimana però l'engramma storico è un'arma speciale, quindi se vi manca qualcosa dell'anno 1 prendetelo, mentre l'arma esotica questa volta è il quarto cavaliere, anch'essa un'arma speciale che sinceramente non ho mai utilizzato da quando l'ho sbloccata. Il parche fulminatore che permette di sparare la raffica, dopo di che troviamo le solite balistiche e strozzatura che ne aumentano la gittata, abbiamo round finale, che in un fucile a pompa non so quanto sia utile, più cassa rettificata, carica manuale e ricarica rapida. Ed infine troviamo rispedito l'emittente, che le uccisioni con quest'arma potrebbero ricaricare di un colpo il caricatore. Caricatore che è da 5 colpi nonostante le 4 canne di questo fucile a pompa, ma va bene così. Per lo strozzatura invece troviamo il casco luce oltre la Nemesi, che non è neanche bruttino, qui lo vedete nella sua versione bianca con questa macchia rossa, che volendo può ricordare la bandiera del Giappone. Comunque ha custode del branco, che le super generano più sfere e si è rianimati più velocemente, aumento di forza, aumento di intelletto, mani nel sacco e ripensamento. Le solite cose insomma. Più rinvigorimento, energia bonus corpo a corpo quando si raccolgono sfere di luce. Questo casco è perfetto in PvP se giocate nelle prove di Osiride e più in generale in PvE perché promette di fare più sfere di luce. Mentre per il cacciatore troviamo il mio amatissimo Cimiero del Lupo Alpha, che è il mio busto preferito, è quello più bello in assoluto, che anche in questo caso ci promette di generare più sfere di luce e si rianima più velocemente. Il solito aumento forza e intelletto, munizione per fucile automatici e fucili a pompa, oltre al salvabracci solari e armatura solare, quindi se usate il pistolero avrete un'armatura aumentata o comunque subirete meno danni. Anche questo comodo in PvP nelle prove di Osiride oppure in PvE per essere rianimati più velocemente se ne dovreste aver bisogno. Per il titano troviamo il casco di Saint-14, anche in questo caso completamente bianco, non c'è niente da fare ragazzi, io amo gli shader bianchi, con Notte senza stelle, dove Guardia dell'alba acceca i nemici all'interno, aumento di forza, intelletto, polvere all'asset, carico pesante e sto già meglio, le sfere di luce ripristino la rigenerazione dello scudo. Questo è ottimo in PvE perché permette di accecare i nemici all'interno della bolla lo trovo una cosa utilissima, un po' meno in PvP perché chi usa il titano con la bolla in PvP, nessuno. Quindi come dicevo prima, settimana dedicata al PvE. Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, venite a trovarci su Facebook e ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti.